musica 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 ok quindi oh tanzi caffè ah non posso toccarlo ok tocco troppo sedia quindi benvenuti qui in questo video strano solo per un gioco che è un gioco da millenni benvenuti su portal 2 lo so portal 2 doveva essere un altro gioco però questa è una mod ehm ho scaricato questo gioco perchè qualcuno di voi non mi ricordo chi mi ha consigliato una mappa horror o una mappa non so se è horror questa qua oppure no però mi ha consigliato una mappa e mi ha detto fuori gioca a questa mappa è molto divertente portale video perchè è molto carina e io ho detto fuori ok cosa c'ho da perdere e poi da un pezzo che non gioco a portal quindi benvenuti su portal cosa diavolo benvenuti su portal 2 già iniziamo bene guarda eh quindi siamo qui con una telecamera che ci guarda malissimo vero signore ok con quella telecamera che ci guarda male e robot no sono manichini salve oh salve ok vabbè qui c'è qualcosa si dei bravissimi lavoratori posso prendere la vostra sedia no ne dubite fortemente quindi allora qui vedo tantissimi tizi qua che fanno cose quindi va bene ragazzi tranquilli calmi tranquilli fatemi press 1 to interact ah no press 1 e per interagire ok allora prima interagiamo con questa ehi wait qua siamo su gmail non su amail vabbè ok quindi domani dobbiamo andare al ehm ehm aspettate un attimino fatemi aiutare durante 30 secondi allora domani dobbiamo andare all'agenda e ehm ho pensato una cosa divertente da poter fare ehm pratica qua parla un pochettino di mettere dei manichini in giro per l'ufficio mi vuoi aiutare ehm ho il piano di mettere tutto questo alle una prima che alle ehm arrivi qui ehm lei fa il turno di notte è perfetto ah quindi sono una lei mi chiamava lei ok quindi allora ehm questi tizzi hanno fatto un piccolo scherzo su di me per me ehm mi ha messo dei 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 manichini in giro eh beh dai è è un bello scherzo sei tutti inquieti un pochettino soprattutto con manichini che sono in giro e non mi ricordare ah per due shyance let's work together divertente vero? vero? divertente molto divertente allora ehm dobbiamo andare qua giù di sotto ta 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 what the fuck ok allora questa cosa è poco inquietante ma va bene lo stesso wow è enorme qua sotto? no ok credo che non possiamo saltare di qui va bene ok allora 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 stand still remain calm scream this statement is fast new mission refuse the mission do a set of all sets containing self ah ok con queste cose qua bisogna soltanto stare fermi stare tranquilli e urlare ma poi un po' dice che di non urlare va bene ok scusi e tic grazie uh salve quindi salve piacere di conoscere signora e si ricordi di di me ok wait a fucking second ma che cacchio vabbè ok 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 questa cosa è inquietantissima no 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 fuck you 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 ok ok va bene allora signora sedia se ne vadi poi dalle palle e io vado a questa ehm il manichino era lì ok questa è meno terrorizzata di quell'altro porta gun oh yeah non sarebbe porta senza una porta gun non sarebbe porta senza una porta gun non sarebbe porta senza una porta gun sarebbe porta senza una porta gun oh wait ho andato da quella ok what the fuck what the fuck what the fuck ah ok E' tutto uno scherzo E' tutto uno scherzo Ok mi sta venendo i brividi I piccoli brividi What the fuck Salve e Poco il suo sangue Ok non me lo chiedo Non mi domando nulla Io vado avanti Andiamo sopra la via Sopra qui Oh yeah Let's go Lei come cazzo c'è arrivato sulla cima Eh vabbè Allora Ok ho messo tutti i manichini nell'aria E ne ho messo uno Su una sedia qua vicino Da qualche parte In caso lei dovesse andarsene in giro Se Mr. Johnson ci Troverà quello che stiamo facendo Ci potrebbe uccidere Ah 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 Onestamente Non vedo l'ora che questa cosa dei manichini Finisca perché Sono molto inquietanti E ne ho trovato uno Davanti al mio ufficio Oggi Mi ha spaventato a morte Ah 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 Ehm Maxwell Maxwell Deve capire fuori che Anche me In questa nostra cazzo di cose qua Vero? Lo prendo per un sì Lo prendo per un sì Allora Salve What the fuck? Quella è una persona Quella è una persona Vero? Ok Oh ah 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 Ok Stammi lontano Piccolo strozzo Ok Questo non è più uno scherzo Questo non è più uno scherzo Ok Andiamo giù Salve Non 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 Un po' di brividi Un po' di brividi Non me li toglie nessuno Vero che non me li toglie nessuno Un po' di brividi Salve Quello è un cadavere Quello è un cadavere Quello è un cadavere Non ti muovere Ok 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 What the fuck No Non mi chiederei mica di Ok Ok Don Muoverti ok Non muoverti Allora Non sono voi ragazzi Ma non voglio essere Ehm Come vi posso dire Non voglio essere Non voglio essere In questa situazione Ehm Odio Dover avere a che fare Con quei manichini Ehm In più Ehm Uno di voi ragazzi Ha messo un manichino fuori dal mio ufficio Ehm Aspettatevi una Denuncia Complain Mi sembra che non denuncia Non vengono più Aspettate Una denuncia Da Ehm Da me appena questa cosa Appena troverò chi è stato Probabilmente te Miles Ehm Ehm The overturned tarbis and stuff is bite overkill Ehm le cose Le I tavoli E la I tavoli rovesciati Ehm L'altra roba è abbastanza inquietante I I Sono molto dubbioso Che Ehm Alley potrebbe chiamare Ehm La polizia E poi quel Sangue finto Che c'è qua intorno Ehm Quel sangue finto Ragazzi Ehm Qualcosa di veramente Veramente micidiale Ah Allora il sangue finto Ok Il sangue finto Il sangue finto Stop it Ok 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 Devo continuare a guardarti vero stronzo Fanculo Fanculo te Hai fatto venire un infarto figlio di puttana Ok No Roba Noi non abbiamo messo nessun sangue finto laggiù Ehm Ehm Ok Allora Salve Ehi No Le luci No No Bendi Allora ragazzi Questa qua è la prima parte Di due mappe Mi sembra che continuino Di questa fantastica mod Chiamata The Office prank mi sembra O roba del genere Ehm Vedremo di continuare prossimamente le altre due Perché mi sta interessando Mi sta piacendo Mi sta Facendo vedere l'inquietudine Fidatevi Quindi Allora ragazzi Vieni di tutto ci vediamo al prossimo Se questo video vi è piaciuto Lasciate una bella zappata E noi vediamo di rivederci Ehm La prossima volta Auuuuuuu